ricordarmi tutti allora allora vedi Giampiero ha l'infobus scaduti va bene io questo questa segnalazione in alto questa stringa la elimino quindi vado su aggiungo infobusta come abbiamo detto va clicco su tutto mi vado a selezionare la prima la calma vado a cliccare su spark scan mi trovo il continua il primo continua mi trovo il secondo continua e sono qui ok allora noi siamo pronti per registrare quindi Giampiero quando vuoi facciamo il tuo vocale nome cognome anni e quello che ti senti in questo momento buongiorno mi devi dare il via Giampiero quando tu mi dici vai inizia subito a parlare perché io clicco ok vai sono Giampiero a mentola ho 66 anni chiamo dal Brasile e mi trovo qui un poco per caso ma sto bene ok allora c'è andato tutto quello che volevi dire quindi lo prendiamo per buono ok clicco su continua allora di solito ho fatto caso che quando il sistema elabora ci metto un po' per elaborare un bel po' di secondi corrisponde a una necessità di lavorarci parecchio ci sono molte cose da sistemare e non c'entra niente un discorso di connessione io ho valutato questa cosa che più lavora e più c'è da lavorare diciamo così allora questa è la risposta cinetica della tua voce è il disegno il grafico della tua voce ok io faccio conto di essere Giampiero mi concentro sul Giampiero e clicco cinque volte sulla risposta cinetica allora dicevamo prima io qui se voglio lasciare 14 giorni lascio 14 giorni di solito c'è l'esigenza di cambiare negli orari più che giorni cioè in 14 giorni se io clicco sulla prima riga vedo che posso attivare da le 24 ore fino a due settimane ok in questo caso lasciamo due settimane e chiudo questa prima questa prima riga grigia la seconda riga grigia ci dà gli orari allora perché gli orari perché nel caso specifico di due infoboost particolari che sono per esempio l'energia il sonno che cosa succede se io l'energia l'attivo h24 rischio che la notte non dormo quindi mi conviene attivare l'energia solo di giorno negli orari in cui io sono attivo cioè se mi sveglio alle 7 metterò alle 7 alle 7 e mezza quello che volete se mi sveglio alle 5 di mattina posso mettere 5 di mattina fino alle 10 di sera se no rischiamo che l'energia che lavora la notte non ci fa a dormire ok e quindi qui che cosa faccio queste friccette allora qui la traduzione trae in errore qui leggete sono perché traduce da m a i m ma se io clicco col tasto destro sullo schermo e metto traduce in italiano e ripasso però l'inglese devo passare un attimo all'inglese metto vedi l'orario am anti meridiano e qui ci metto poi pm meridiano quindi mi metto che ne so dalle dalle 7 di mattina quello che volete ecco 7 am fino all'orario che vuole adesso faccio un esempio come per esempio il sonno il sonno al contrario il sonno l'attivo solo da notte altrimenti sbadiglio di giorno succede questo quindi gli orari servono a questo allora chiudo la seconda riga perché non ci interessano adesso gli orari rimetto in italiano e la cosa che mi interessa le mie statistiche personalizzate sono sulla terza riga sempre terza riga potenziamenti ingredienti di potenziamento predefiniti ottimizzati cioè vuol dire ottimizzati con la nostra scansione vocale allora nicola sull'area calma ha questa statistica ok allora io però per una mia io potrei anche dirvi potre potremmo dire a tutti all'inizio il primo mese il primo mese e mezzo anche due mesi volendo potrebbe esserci il consiglio un po standard un po universale di attivare tre aree principali che sono la calma che non vuol dire solo stare calmi vuol dire avere una centratura avere una visione un po più chiara delle cose ragionare meno di pancia eccetera e lavorare sulle emozioni l'antiaging che non è soltanto ringiovanimento fisico è proprio ricambio cellulare che è una cosa molto importante a livello anche cerebrale ok quindi calma antiaging e digestione perché la digestione lì si trova il nostro primo cervello quindi di base il consiglio che si dà è quello di lavorare inizialmente su queste tre aree e di non esagerare con le aree partire da queste tre però io potrei anche dirti nipola guarda cioè giampiero scusami scusate che sto sbagliando destinatario allora potrei anche dire allora il sistema vi fleggerà sempre i primi 10 in automatico ok ma non è che io mi devo limitare a lasciarne 10 io potrei anche avere l'esigenza di aumentarli o diminuirli perché ho l'esigenza di mettere ingredienti diversi ok generalmente io attivo quelli che vanno dal 79 in su guarda caso qui i primi 10 si fermano al 79 potrebbe andare bene questa selezione però io che cosa sto guardando allora ragioniamo in questi termini l'imbic ha mille ingredienti in banca dati ok e sono tanti mille quindi se tu guardi giampiero e ti ricordi i valori alti che uscivano sulla calma inizialmente guarda come sono scesi guarda come sono migliorati non abbiamo più dei 97 per cento dei 95 partiamo da 92 ma i valori sopra il 90 sono soltanto due e sono pochi perché tra su mille ingredienti non è che questa statistica così gravosa no che che ci che ci indica che la calma è un'area urgentissima allora io posso anche pensare di dire allora prima di attivare la calma voglio andare a vedere i valori per esempio della messa a fuoco perché magari a livello emotivo quello mi dà dei valori più urgenti da attivare ok quindi se io volesse attivare la calma gli ingredienti selezionati dal sistema vanno più che bene perché vanno dal più alto e si fermano al 79 ok poi che cosa faccio però sempre e inevitabilmente la calma come l'altra area emotiva e tirano fuori dei fiori di bacca perché i fiori di bacca sono le emozioni raccontano di noi che cosa abbiamo nel nostro inconscio quindi per una mia presa di coscienza me li vada a vedere mi è uscito caprifoglio ma che vuol dire questo caprifoglio come significato emotivo ti dice che è una persona abituata a abbracciare il presente e non vivere scusami non abituata allora il fiore di bacca serve a vivere nel presente e non nel passato ok poi ti dice l'iscrizione coloro che vivono molto nel passato ti ricordo il giampiero che te esce sempre questa cosa perché tu hai un passato importante quindi ti devi un po ovviamente sganciare questi pensieri no forse in un momento di grande felicità cioè pensi a quando le cose erano erano belle erano leggere e andava tutto bene avevi la tua famiglia al completo oppure ecco di persone che non ci sono più vedi di amici perduti o ambizioni che non ci sono più avverate e sono persone che adesso in questo momento non si aspettano grandi felicità come quella che è avvenuta in passato quindi hanno bisogno di rinnovare questa felicità ok e mi sono letta il primo fiore di bacca poi mi leggo il secondo che è un valore alto utilizzato per calmare la mente e alleviare i pensieri ripetitivi cioè i tuoi pensieri girano sempre intorno alle stesse cose e dobbiamo interrompere questa procedura quindi distinzione per coloro che non riescono a impedire i pensieri idee che non che non si desiderano entrino nella loro mente di solito in quei momenti in cui l'interesse del momento non è abbastanza forte per mantenere la mente piena pensieri che preoccupano e rimarranno e comunque ritorneranno in un certo modo quindi sembrano girare in tondo a causare torture mentali sempre intorno agli stessi argomenti questa è una mia riflessione cioè i fiori di back io me li vado a leggere perché sono cose importanti però abbiamo detto aspetto attivare la calma perché ha valori piuttosto bassi ok quindi io che cosa faccio non attivo nulla salgo non clicco su attivare torna indietro su questa freccia torna indietro ancora perché sto ancora sulla calma mi voglio andare a guardare la messa a fuoco un'altra parte emotiva seleziono sempre spark scan io la voce tu la voce del giampiero l'hai già registrata ma la devo comunque selezionare ok la seleziono e vado sempre sulla terza riga sempre la terza come vedi giampiero il mio sospetto era quasi scontato nella messa a fuoco tu hai più necessità di lavorare perché guarda i valori come sono più alti guarda come sono più numerosi quelli che sono sopra il 90 e guarda anche oltre l'ultimo che il sistema ti flagga in automatico l'ottantatré per cento noi abbiamo la necessità di metterci anche la noce le matite la crocina il cacao crudo il magnesio la licitina che sono tutti 79 per cento guarda quanti e anche questo geotricum candidum quindi io non ne metto più dieci ma ne sto mettendo due quattro sei otto dieci dodici quattordici sedici e diciassette allora me lo scrivo prendete sempre un appunto mi scrivo messa a fuoco diciassette perché ne sto attivando diciassette ok anche qui ci sono dei fiori di bacca ora tu mi dirai sì però nell'altra area io ne avevo altri due questi quegli altri due fiori di bacca io me li vado sempre a potenziare giampiero nel nell'ultima parte custom personalizzato poi questo adesso lo vediamo perché importante allora io che cosa faccio la messa a fuoco è più urgente mi sono selezionata quelli fino a 79 che cosa faccio potremmo anche non farla questa cosa però io magari la suggerisco per tenere sotto controllo quanti ingredienti stiamo attivando faccio una fotografia di questa schermata per vedere che cosa sto attivando perché nelle aree successive voglio evitare di metterci dei doppioni ok però adesso magari andiamo veloce li selezioniamo lo stesso a prescindere dai doppioni chiarisco questa cosa visto che stiamo registrando i doppioni non vuol dire che gli ingredienti ci arrivano due volte come quantitativo ci arrivano sempre una volta ma sono ai fini di calcolo per regolarci su quanto stiamo attivando ok claudio scusami quante cose è attivato sulla messa a fuoco quelle legate tu le vedi giampiero lo vedi lo schermo si lo vedo ok allora vedi che su questi pallini blu c'è una il sistema mi dava la virgoletta fino a questo 83 per cento cioè lui i primi 10 ti mette in automatico ma io ho necessità di andare più giù perché un altro 83 la noce e c'ho anche un 81 l'altro 81 e questi 79 allora questo è una cosa abbastanza importante uno dice vabbè ma perché ci devo mettere di più perché voi dovete considerare questo è quest'area della messa a fuoco questi ingredienti della messa a fuoco sono come un flaconcino di gocce sono come un flacone di di un integratore mettiamo fosse un multivitaminico ok se io nel multivitaminico non ci metto anche queste qui da aggiungere sotto è come se io avessi un multicentrum da cui però tolgo delle vitamine cioè multicentrum dove però non ci sto mettendo la vitamina c e non ci sto mettendo la vitamina b 19 cioè è un integratore ma non è completo non è un pacchetto completo ok questo è il ragionamento che si fa cioè il sistema lavora lo stesso ma io voglio farlo lavorare meglio il pacchetto lo voglio completo cioè se il multicentrum ha 20 elementi io voglio tutti questi 20 elementi ok allora quindi che cosa faccio adesso lasciamo stare i doppioni che poi magari ci fanno perdere tempo però possono essere utili per calcolare quanto attiviamo io salgo e clicco su attivare ok da questo momento giampiero da quando ti compare questo logo in movimento gli ingredienti che abbiamo selezionato 17 ingredienti sono già arrivati subito all'istante al tuo cervello limbico cioè la tua persona sta già beneficiando di questi ingredienti che tu li puoi rivedere cliccando su questa i di informazione in alta a sinistra vedi clicchi sulla i e ti dice sulla messa a fuoco tu hai attivato questi ingredienti qui con queste percentuali eccole qua e adesso richiudo la x adesso non abbiamo finito devo capire giampiero quali altre urgenze ha ok allora nel tuo caso facciamo un'analisi veloce sappiamo giampiero perché tanto stiamo registrando è una casistica comune a tante persone come anche a susanna ma non sono esclusa nemmeno io allora la maggior parte dei problemi che tu hai in questo momento sono di natura psicologica abbandonare il passato alleviare il dolore la pesantezza al cuore inteso come sentimento ok quindi io ho necessità di lavorare solo cioè non non solo scusate di lavorare cominciando dalle emozioni anche se poi so che questi ingredienti di attivo vanno a lavorare anche su qualcosa di fisico perché un olio essenziale anche se è un valore spirituale andrà a lavorare anche magari sulle articolazioni sul fegato sulla digestione su quant'altro ok avrei che cosa faccio aggiungo un infobus di nuovo riclicco su tutto per avere tutto sotto mano e faccio questo ragionamento abbiamo detto che la base delle emozioni sono digestione intestino le vado a vedere subito ok e vado a fare un paragone veloce allora digestione spark scan seleziono la voce terza riga sempre e mi trovo la tua classifica personalizzata della digestione allora e prendo appunti e scrivo digestione 96 trattino 79 perché perché il sistema mi indica i primi dieci ingredienti mi vanno dal 96 al 79 per cento e tra parentesi ci metto 2 4 5 ci metto allora 96 trattino 79 per cento tra parentesi 5 cosa vuol dire 5 sono 5 valori sopra il 90 cioè mi appunto quale quale urgenza a quest'area ok anche se vediamo che arriva subito al 79 quindi non è a tantissimi però ha diversi valori sopra il 90 io che cosa faccio giampiero ho visto la digestione ho preso appunti non l'attivo ancora risalgo faccio come prima clicco indietro di nuovo indietro e mi vado a fare il paragone con l'intestino perché voglio vedere se l'intestino è più urgente spark scan sempre la voce sempre terza riga queste cose sono meccaniche sempre la stessa cosa voce e terza riga allora come vedi come vedi la digestione andava dal 96 al 79 qui già vedo che esce fuori addirittura un cento per cento che è molto raro che esca giampiero quindi questo ingrediente qui che me lo vado a vedere è una muffa che si trova sul terreno sulle piante sul legno sulla carta insetti eccetera e tu immagino giampiero che tu sei in una zona piena di natura intorno no immagino ok è importante perché incide su diverse cose che hanno a che fare con l'asma la respirazione la bronchite la tosse la diarrea la salute respiratoria e il vomito ora tu dici vabbè ma noi stiamo sulla digestione che cosa c'entra ma ti segnala che un ingrediente fondamentale su queste cose qui poi scendendo sotto le picocum troveremo altre cose che hanno a che fare con la digestione i lactobacilli le vitamine eccetera eccetera ok quindi l'intestino scusami l'intestino siamo sull'intestino allora ha valori più urgenti della digestione quindi io mi vado ad attivare l'intestino allora però non mi fermo a questo 84 per cento prima la digestione si fermava al 79 qui ho l'esigenza di andare più in profondità e mi vado a mettere la pepsina la lipasi la moringa la corteccia il don quai e questo geotermicum lascia stare che mi ricordo che c'era anche prima ma non stiamo a perdere tempo a guardare i doppioni li attiviamo tutti comunque tutto il pacchetto completo ok sono 17 sono 17 qualche doppione c'è mettiamo che l'abbiamo attivato i 15 ok sull'intestino quindi io mi sono attivata 17 ingredienti sulla messa a fuoco le emozioni e 15 ingredienti sull'intestino intestino vuol dire sì emozione ma vuol dire anche infezione intestinale vuol dire anche un lavoro intestinale che non va tanto bene ok poi se noi abbiamo tempo adesso siamo in registrazione non lo facciamo posso anche andare a guardarmi il significato di questi ingredienti qui ci clicco sopra e vado a vedermi l'erba di grano che cos'è a cosa serve e su quali voci vi ricordate le indicazioni degli ingredienti che sono quella parte personalizzata che abbiamo visto prima per il mal di denti di nicola sono esattamente queste voci che trovate qui cioè quelle indicazioni allora l'imbic ha mille ingredienti mille qualcosa ingredienti in banca dati poi ha 30 infoboost che sono queste macro aree digestione intestino calma eccetera poi ha 350 indicazioni di ingredienti sono voci così specifiche sono quelle che leggete antibiotico alzheimer diabete e di discorrendo quindi che cosa ci dice il sistema questo ingrediente pure se pure servendo a giampiero per l'intestino ci fa capire però in quale direzione è dover andare anche chiaramente io non mi guardo solo l'erba di grano se voglio fare una statistica me li guardo un po tutti no se trovo che la voce antibiotico compare tante volte è segnale che devo potenziare l'antibiotico però questa è una cosa che vediamo dopo ok quindi io l'intestino visto che è molto più urgente ho selezionato tutto fino al 79 ritorno in alto e me lo vado ad attivare quindi a mente ho attivato 17 ingredienti di messa a fuoco una quindicina di ingredienti sull'intestino però dico non mi basta perché diciamo orientativamente noi possiamo attivare i suggerimenti parliamo di suggerimenti all'inizio una trentina trentacinquina di ingredienti siccome noi è un po' di volte che facciamo un infoboost possiamo anche pensare di allargarci a 40 barra 50 e aggiungo nel caso di giampiero è necessario perché altrimenti facciamo un lavoro un po' lento dobbiamo calcare un po' la mano sul quantitativo di ingredienti ok allora io non avendo finito che cosa faccio mi faccio un personalizzato quindi emozioni intestino quindi un po' di fisiologico un po' di emozioni mi vado a fare un custom personalizzato quindi aggiungo un infoboost ok il custom lo trovo direttamente sopra e non serve che clicco su tutto anche se poi me lo da qui quindi vado sul custom seleziono lo spark scan della voce poi che cosa faccio nel custom trovo direttamente solo la terza riga ok quello che volevo farvi vedere prima terza riga e mi trovo dove stavamo prima con Nicola allora io ricordate che vi dicevo la prima cosa da fare è andare su tutti gli ingredienti questo sempre vedi che ti dà i primi dieci flegati eccoli qui ok ti dà questo sta tutti gli ingredienti che cosa vuol dire la classifica rispetto alla tua voce giampiero di tutti i mille ingredienti che è l'imbic e quindi sono tanti sono tutti qui perché se tu guardi ti metti tutti i 90 vedi a scendere ma io voglio selezionare quello che dico io allora fleggo tutto per metterli e poi di nuovo li tolgo cioè vado a pulire a resettare quest'area ok una volta che ho resettato inizio a fare il lavoro personalizzato cosa faccio vado su categorie è comodissimo questo questo settore perché posso andare a vedere per categorie la mia situazione la situazione di Giampiero è questa qui anche qui non c'è una regola ma Claudia suggerisce di fare questo più o meno sempre prima cosa i fiori di Bach abbiamo detto che sono le emozioni ok è come se tu Giampiero stessi facendo un percorso di psicoterapia va bene allora fiori di Bach ce l'ho qui clicco lascia stare che un paio di fiori di Bach già l'abbiamo selezionati ma non andandomi a ricordare per non perdere tempo e scrivere io a prescindere che cosa faccio questa è la tua classifica personalizzata di tutti i fiori di Bach che ha il sistema mi dice che tu hai urgenza di lavorare con il caprifoglio con il white chest e con l'agrimoni ci metto anche anche se non è più basso di 79 abbiamo detto che Giampiero ha urgenza di fare un lavoro importante con le emozioni allora che cosa vedete perché non ci sono regole Giampiero ha un po' di urgenza io ci metto anche questi due anche questo al 77 e ci metto anche questo 76 le vado a fare un pacchetto più completo ok poi se vuoi ti ripeto tu entri clicchi e vai a vedere cosa vuol dire questa climatide è una pianta vabbè in teoria tossica e i benefici sono trattamento dell'emicrania disturba l'intestino vedi che torna l'intestino anche qui irritazioni infezioni della pelle delle vene infezioni varie e tessuti nervosi eccetera le persone che sono sognanti sono sonnolente non completamente sveglie ma non vuol dire che sono chiariamoci persone passatemi il termine rimbambite sono persone che vivono nel pensiero delle cose nelle fantasie nei ricordi capito e ti dice questa descrizione allora io che cosa ho fatto selezionato i fiori di bacca che mi interessano riclicco di nuovo sulla sulla riga o anche sulla freccia come volete per chiudere la tendina ok poi nelle categorie che cosa mi interessa vedere tanto perché è importante i chakra i chakra sono la base dei scienzi energetici no la parte spirituale della persona i chakra di giampiero che cosa dicono che c'è urgenza di lavorare sul primo chakra della radice e io me lo seleziono il chakra della radice mi dice che guarda su quali voci con quali voci ha a che fare attivo adattogeno bilancia nel senso di saper bilanciare le cose infezioni sempre alla vescica concentrato comunicazione con il divino determinazione visenteria allora quando leggete la voce eccitato si la traduzione più idonea è agitato cioè vuol dire un po di agitazione ok disordine alimentare illusione indipendenza quindi come vedete negatività come vedete c'è tanto di spirituale di emotivo e di fisico allora io il chakra me lo attivo il primo riclicco sulla riga grigia e chiudo la tendina poi cosa mi interessa sapere mi interesserebbe vedere anche i punti di acopuntura perché perché i punti di acopuntura hanno a che fare anche qui con l'energia fisica ma anche l'energia spirituale ma hanno a che fare anche con i dolori fisici a te Susana i dolori sono diminuiti perché io ho la mano con i punti di acopuntura allora punti di acopuntura qui ce li divide in generali e per donna ma io anche quando quando attivo per le donne vado sempre a vedere quelli generali perché c'è qualcosa in più quindi i punti di acopuntura mi dicono che c'è urgenza di attivare tutti questi almeno fino al 78 facciamo ok no no giampiero anche qui allora e chiudo la tendina ora c'è una nuova categoria aspetta facciamo anche un discorso visto che stiamo lavorando sull'intestino che ha valori molto alti andiamo a vedere anche le vitamine le vitamine che possono essere utili infatti c'è le due del gruppo B che sono di difficile assorbimento ma c'è anche questa qui anche sono tre vedi allora io dovrei fare così 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 e così ma siccome vedo che ci sono tre del gruppo B che il corpo fa fatica ad assorbire mi vado a cliccare anche questa qui ce l'ho qui 74% ma la B12 ce la metto ok a colpo d'occhio le vitamine le selezioniamo le più urgenti ora intestino faccio questo ragionamento che cosa che ci interessa tanto intestino uguale prebiotici e probiotici sono la prima cosa che ti vanno a suggerire quando devi lavorare sull'intestino ma soprattutto perché l'invic ci dà la possibilità di sapere quali prebiotici esattamente dobbiamo potenziare e quali probiotici non un pacchetto preconfezionato comprato magari così tanto per dare un pacchetto ok quindi Giampiero ha bisogno del colostro di questo Saccharomyces bulardi dell'Actobacillus paracasei e ci metterei anche se è 77 anche questo è Bifidobacterium che è importante e abbiamo potenziato anche quest'area c'è una categoria nuova che c'è da 10 giorni che è questa che è pure importante è quella degli alimenti comuni allora qui io ho fatto delle attivazioni non potete capire che cosa è saltato fuori perché è un vero e proprio test di intolleranze alimentari ve lo posso dire perché ho fatto l'attivazione a una persona senza sapere nulla e ho individuato subito con quest'area che la persona aveva un sovraccarico di proteine a livelli pazzeschi aveva la pressione altissima da diverso tempo e gli ho saputo dire anche quali alimenti doveva evitare e guarda caso erano tutti gli alimenti di cui lei stava in sovraccarico perché le hanno assegnato una dieta iperproteica piena di sostanze come la curcuma lo zenzero che lei puntualmente rigettava il corpo non le voleva e guarda caso erano gli alimenti che lei doveva evitare quindi esce tutto alla perfezione della nostra situazione in questo momento allora alimenti comuni io me li vado a guardare perché? perché è importante il collegamento con l'intestino è fondamentale allora ricordiamoci che le percentuali alte sono le carenze non ci sbagliamo su questa cosa Gian Piero è carente di succo di sedano di avocado, di capperi, di foglia di menta piperita io me li vado a mettere tutti zenzero anche qui uno potrebbe dirmi ma io lo zenzero lo mangio oppure mi prendo reti sane evidentemente è segnale che in quella forma il tuo organismo non lo sta assorbendo abbastanza qui ci arriva l'ingrediente sotto forma energetica pura quindi li metto tutti la stevia questa qui il galanga la semola di farro il pompelmo l'aglio eccetera seme di psillo è un ingrediente che ha a che fare con il morbo di cronne per esempio quindi è importante anche se sono tanti io li vado a mettere tutti perché sto lavorando sull'intestino fino al 79 ok queste sono le carenze adesso qui qual è il bello che io su quest'area posso vedere anche una sorta di intolleranza chiamiamola così o comunque gli alimenti con cui devo andarci piano cioè vado a guardarmi quelli più bassi automaticamente quelli più bassi in fondo alla lista che io non vado ad attivare mi raccomando sono quelli scusate sono scesa troppo sono quelli che noi in questo momento di cui abbiamo meno bisogno io mi guardo generalmente quelli che arrivano da quello più basso fino circa al 20 non vado oltre il 20 e ci dicono che Giampiero dovrebbe un po' evitare o andarci un po' più calmo con questo boccioi scusate non so che cos'è sono alimenti un po' particolari andiamo a cercare su google con calma il ginepro l'aronia il dragoncello il bisonte il fegato di manzo il cavolo carambola limone aringa melograno tonno io adesso sai che faccio Giampiero per comodità faccio uno screenshot di questi primi 20 e poi te li mando su whatsapp ok così poi tu sai che sono alimenti che dovresti questi sono quelli che devo evitare bravissimo quello che dovresti un po' evitare io adesso me li salvo su un foglio word al volo scusate un secondo quindi non seleziono niente perché non vanno potenziati questi è solo per vedere cosa devo evitare risalgo quelli alti l'ho già messi chiudo la tendina degli alimenti comuni ecco io ho per quanto riguarda le categorie ho fatto quello che dovevo fare ma non ho finito allora vado adesso sulle indicazioni le famose 350 50 voci personalizzabili ok qui noi possiamo farci anche dei test qui è tutto personalizzato per Giampiero allora che cosa succede voglio andare a vedere anche qui vabbè sono un po' scombinati però abbiate la pazienza di guardarveli tutti con calma perché io dico sempre abbiamo uno strumento importante spesso e volentieri andiamo a fare la fila perché noi affidiamo la nostra salute deleghiamola al nostro benessere sempre agli altri che lo sbaglio enorme quando possiamo delegarla a noi stessi in prima persona poi casomai a terze persone terze persone vogliono dire tutto cioè amici sciamani preti medici uno psicologo quello che volete non che non siano importanti o non bisogna consultarli attenzione però prima veniamo noi ascoltiamoci da soli e poi vediamo cosa possiamo fare quindi posso andare a lavorare come se io in questo momento avessi il test con diversi specialisti quindi voglio andare a vedere per esempio le allergie quale situazione ha Giampiero con l'allergia clicco su allergia e mi dice che ci sarebbero questi ingredienti da attivare ok adesso non attiviamo perché non è il tuo problema principale Giampiero a meno che non mi dici che stai avendo problemi grossi con l'allergia no ok chiudo la tendina era solo per far vedere a me interessano le voci dei problemi di Giampiero ossia me li vado a vedere velocemente possono essere l'ansia che è un sentimento importante e mi vado a mettere questi più alti ok e lo chiudo mi vado a mettere l'antidepressivo certo che a Giampiero serve l'antidepressivo non vuol dire necessariamente che una persona è in condizioni già di depressione questa è un'indicazione che attiva anch'io attiva anch'io perché voglia abbandonare i pensieri tristi da Claudia ok quindi anche come forma preventiva sul lavoro profondo che stiamo facendo e allora vedete che alcuni sono già messi perché perché li abbiamo attivati prima nelle categorie quindi io li lascio ma vado a riempire buchi vuoti vado a metterci il primo che manca questo e anche questo 77 ok io ho potenziato l'antidepressivo poi scendo e leggo per esempio che ti posso dire certo antibatterico antibiotico a parte che poi sono cosci che si ripetono stiamo lavorando sull'intestino io ce li metterei perché guarda quanti valori alti se non lavoriamo sull'intestino Giampiero le emozioni fanno anche fatica a svanire ok certi sentimenti negativi intendo quindi l'ipotenzio l'antibatterico automaticamente riscontrerete che quando cliccate su antibatterico generalmente anche antibiotico più o meno coincide con gli stessi ingredienti potrebbe mancare qualcosina ad aggiungere vedi tipo questo in alto e anche antisettico la stessa cosa quando ci andate per la pelle altre infezioni è già tutto fleggato poi per Giampiero un'altra voce sull'ansia ve la vado a vedere e ci aggiungo i buchi vuoti eccoli qua i più alti poi per Giampiero mi serve vado un po' veloce tutte le voci a colpo d'occhio che hanno a che fare con la situazione emotiva quindi che ti posso dire anche centrato avere una centratura guarda quanti valori alti guarda caso Giampiero sono tutti fleggati cioè noi siamo andati a fleggare le voci riguardanti magari l'intestino e guarda caso hanno a che fare con l'emotivo vedi che coincidono sono tutte uguali le abbiamo già tutte messe poi vado a cliccare che ti posso dire la comunicazione intesa come fiducia la comunicazione con te stesso e ci metto questo più alto che mancava poi la fiducia di no allora perché compaiono più volte le stesse voci perché quando traduco in italiano purtroppo c'è qualche termine che si ripete ma in inglese sarebbe un po' diverso io per scrupolo le vado a vedere tutte quelle uguali poi mi vado a vedere per esempio ecco la salute dentale non era mal di dente ma era salute mentale quella di prima ok la depressione ci vado assolutamente a vedere e sono già tutte messe a parte questo 78 ok che aggiungo poi mi vado a vedere vado qui un po' veloce tanto ormai le conosco tutte mi vado a vedere la paura anche qui è un sentimento Giampiero che quando lavoriamo magari sulla depressione andrebbe potenziato però che cosa vediamo che la paura tutto sommato non ha valori alti vedi quindi la possiamo anche lasciar lasciar da parte mi vado a potenziare la felicità l'abbiamo messi già tutti vedi poi vado a potenziare per esempio l'illusione perché l'illusione perché abbiamo detto che tu magari vivi molto nei ricordi nelle cose che ti ripassano nella mente nelle cose che hai vissuto quindi hai bisogno di essere più presente a te stesso e sono già tutte selezionate non è un caso poi vado a vedermi per esempio dopodiché abbiamo pressoché finito allora l'intestino che perde me lo vado a vedere se c'è qualcosa ecco c'è il magnesio per esempio importante raggiungere sempre tornando all'intestino vado a vedere delle voci come sulla materia miglioratore dell'umore sì beh l'umore sicuramente incide di raggiungere questo 81 Claudia vuoi che la faccia entrare nel frattempo così partecipa ma guarda Nicola se vuoi sì però tanto poi ho una cosa è mirata con lei quindi come ritieni come credi poi dopo poi dopo vi sentite intanto la faccia entrare se no aspetta risposta capisce che siamo collegati ok allora tanto scorro velocemente per esempio è Giampiero il panico il panico è una cosa di cui spesso noi non ci accorgiamo però è una cosa che abbiamo dentro che scaturisce magari sensazioni non piacevoli no e già ci ha messo tutto poi vado a vedere per esempio il presente abbiamo detto che tu vivi un po' troppo nel passato mi vado a potenziare il presente e guarda caso c'è già il chakra ti ricordi che l'abbiamo messo c'è c'è un'acqua digitale mi vado ad aggiungere casomai per dare una mano in più questo 74% giusto per per dare qualcosa allora ci sono prebiotici e probiotici prima c'era la categoria adesso c'è l'elenco preciso diviso qui a valori bassi non ci metto niente sul probiotico trovo qualcosa magari da aggiungere ok poi andiamo a metterci guarda le voci emotive sono tante adesso io vado un po' veloce però ci sono la tristezza ho visto prima la tristezza bravo bravo aiutami dammi una mano che qualcosa mi salta allora vedi tristezza coincide con le voci già selezionate tutti gli ingredienti che servono già ci sono allora fiducia in se stessi questo è importante anche se vedi non c'è però ci sono due voci c'è questa e c'è questa sopra sono differenti io qui il 78 già c'è e ce lo lasciamo poi allora andiamo a vedere la tristezza di nuovo no 31% non è alto ci andiamo a vedere vita questa è importante vita e modalità sopravvivenza cioè quando le persone sono depresse affaticate sono tristi vivono giorno per giorno senza avere magari lo slancio di avere un po' di programmazione ok in futura per tanti motivi quindi io ci vado a cliccare è già tutto messo ok dopodiché abbiamo finito praticamente sono le ultime voci un'altra voce importante che trovi sempre alla fine è per esempio il volere il volere è una voce importante e qui ci sono già le stesse tre che abbiamo trovato prima le stesse voci allora che cosa ho fatto io faccio un riepilogo velocissimo salgo su nel custom personalizzato io ho praticamente scusa Claudia Federica è in ritardo fra 20 minuti ti aspetta perfetto grazie della comunicazione di servizio allora nel nel custom personalizzato io ci sono andata a mettere tutte le cose mirate per Gian Piero cioè sono andata nelle categorie abbiamo messo le categorie visto le categorie che interessano che ci interessano poi sono andata scusate prima ho cancellato la lista in automatico di tutti gli ingredienti poi sono andata in categorie ho selezionato quello che mi interessava poi sono andata nelle indicazioni sulle singole voci ok poi volendo volendo io posso fare anche una sia ricerca intesa come test sia selezione di qualcosa di mirato cioè io mi ricordavo che nella mia nel mio recente passato io magari sono stato sempre carente di ferro per esempio vado su tutti gli ingredienti dove trovo il motore di ricerca e scrivo scrivo solo ferro perché ragione in inglese sarebbe ferrum metto ferra e così me lo trova clicco sulla lente e mi dice la tua percentuale rispetto al ferro non hai una necessità in questo momento ok voglio vedere il tuo livello di carnosina che è una sostanza che è molto importante magari per il lavoro cerebrale per il cervello e mi dice che la carnosina ha 52 quindi non hai carenza voglio andare a vedere che ne so la situazione con una vitamina a parte l'abbiamo vista prima però volessi cercarne una clicca e fai vit lente scusate sì lente per la ricerca e ti dice tutta la situazione personalizzata delle tue vitamine che è quella che abbiamo visto prima la vitamina C la vitamina A la K a scendere voglio cercare voglio vedere la mia situazione con la produzione di collagene perché magari ho problemi non lo so legati alla cartilagene o altre situazioni che hanno a che fare con la pelle con le citatrici con l'ingiovanimento cellulare scrivo call sempre perché ragiona in inglese e mi dice che non hai carenza particolare di collagene ok nel tuo caso Giampiero le cose che io cerco sempre ma questa è la mia deformazione perché conosco questi peptidi i due peptidi che lavorano sulle cellule staminali sono GHK delle cellule nuove prodotte e tu ne hai bisogno vedi produci poche cellule nuove anche per il cervello quindi lo vado a selezionare e l'altra è la AHK sempre cellule staminali che vanno a potenziare più il lavoro del cuore e della muscolatura in questo caso AHK invece non ne hai bisogno è la lanina poi vado a vedere che ne so l'insurazione che sono difese immunitarie giusto per capire l'utazione no il livello è alto mi vado a vedere un ingrediente nuovo degli ultimi due mesi di Limbic che è l'epitalon che è un peptide che lavora sulla telomerasi quindi sull'invecchiamento dei telomeri e anche qui non c'è una necessità una volta che io ho aggiunto quello che voglio aggiungere GHK a quello che volevo io come preferite abbiamo già selezionato tutte le cose prima su queste tre aree io vado a mettere un titolo al custom per ricordarmi che cosa ho potenziato e ci metto sempre chakra ago vuol dire agopuntura alimenti sono andata a vedere poi ho potenziato i fiori di bacca le emozioni sono le cose che vedo sempre e poi ci metto emozioni in generale emozioni anche intestino che sono le cose che io ho potenziato nelle 350 voci in lista ok giusto per ricordarmi su cosa ho lavorato oggi dopodiché posso attivare clicco attivo e ho finito la mia attivazione quindi ho attivato messa a fuoco iniziale sulle emozioni intestino e poi il custom personalizzato dove ci abbiamo messo quello che diciamo noi questo è il pacchetto più o meno completo relativo a Gian Piero il solito personalizzato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti